La Grapperia Toscana Morelli Noi facciamo licuori e distillati dal 1911 100 anni di attività, 100 anni di produzione di licuori, distillati, alcolici Il prodotto Morelli è un prodotto fatto con materie prime di grande qualità e distribuito in maniera qualitativa, quindi enotec, ristoranti, wine bar I prodotti di Punta Nostra sono i distillati, quindi i distillati toscani, di monovitigno, di plurivitigno quindi grappa di Chianti Riserva, grappa di Morellino, Vernaccia in più facciamo degli ottimi prodotti fatti due o tre anni fa quando abbiamo aperto la nuova sede abbiamo fatto una grappa che si chiama Una Cru, che è una grappa a base a marrone è un grandissimo prodotto, si chiama Cru 98 perché è stata fatta dopo 98 anni di vita dell'azienda Facciamo licuori in fusione, quindi limoncino, arancino tutti i prodotti fatti veramente in maniera alcerza con grandissime materie prime Grazie a tutti